La partecipazione può essere anche da remoto. L'ordine del giorno reca lo svolgimento delle comunicazioni del Governo sugli eti del Consiglio europeo del 23-24 giugno. A nome delle Commissioni esteri e politiche dell'Unione europea, Camera e Senato, saluto il Sottosegretario Amendo e lo ringrazio per la disponibilità. Sappiamo tutti che si è trattato di un Consiglio europeo di particolare importanza e segnalo che il Consiglio europeo, nelle sue conclusioni, ha adottato sul tema della grande Europa, incentrato sulla proposta del Presidente Macron di creare una comunità politica europea e che lo stesso Consiglio europeo ha esaminato la domanda e ha adottato, come dire, ha riconosciuto lo status di candidato a Ucrania, Repubblica e Moldova, in prospettiva a Georgia e ha, nella sua dichiarazione finale, affermato la necessità di accelerare l'integrazione dei Balcani occidentali. Lasciando naturalmente al Sottosegretario l'illustrazione di tutti i contenuti del Consiglio, richiamo semplicemente che queste nostre Commissioni hanno più volte avuto modo di esaminare in particolare la questione del processo di integrazione dei Balcani occidentali, riaffermando l'assoluta necessità di accelerare quel processo e di superare le troppe lentezze che fin qui lo hanno rallentato. Detto questo, io direi la parola al collega Amendola. Grazie, prego. Grazie Presidente, saluto il Presidente Fassino, il Presidente Battelli, il Vicepresidente Bossi, saluto tutti i senatrici, i senatori, i deputati, i deputati in presenza o collegati. Come diceva il Presidente Fassino, il Consiglio europeo del 23-24 giugno 22 ha segnato un momento storico, soprattutto grazie alla decisione di concedere lo status di candidato all'Ucraina e ha confermato la volontà di lavorare su alcuni temi posti all'Italia come quello di un tetto limitato e temporaneo ai prezzi del gas. Nel dettaglio i leader dell'Unione europea hanno discusso i seguenti temi, sostegno all'Ucraina dopo la guerra di aggressione russa, la grande Europa, i Balcani occidentali e la richiesta di adesione di Ucraina, Repubblica e Moldova e Georgia, la situazione dell'economia europea e la conferenza sul futuro dell'Europa. Il punto principale ha riguardato appunto la storica decisione di concedere lo status di candidato all'adesione all'Unione europea, Ucraina e Moldova e di riconoscere la prospettiva europea della Georgia. I tre pareri della Commissione europea propongono un approccio graduato e ripercorrono i rapporti esistenti tra i tre Paesi e l'Unione europea e offrono una valutazione del rispetto dei criteri per l'adesione all'Unione europea, i cosiddetti criteri di Copenaghen, che è un criterio politico, economico e capacità del Paese di assumersi gli obblighi derivanti dall'adesione all'Unione. Nel caso della Georgia questi criteri non sono stati considerati ancora sufficientemente maturi per aprire un vero e proprio percorso di adesione con l'attribuzione dello status di candidato. Il dato più importante è stato quello di avere avuto su questa storica decisione l'unanimità di tutti gli Stati membri, anche di quelli tradizionalmente più cauti in temi di allargamento in ragione del difficile contesto regionale a condizione del rispetto dei valori e degli standard europei. Questo anche grazie al richiamo ai principi della nuova metodologia e legando ogni ulteriore passo in avanti al raggiungimento di specifici risultati sulla base dei meriti dei Paesi candidati. Su questo approccio ha avuto un ruolo molto importante anche l'Italia, anche con la visita in Ucraina del Presidente del Consiglio insieme al Presidente francese Macron, al Cancelliere federale Scholz, al Presidente rumeno Ioannis il 16 giugno scorso e con l'iniziativa intrapresa con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale di chiarire gli effetti politici di un'eccessiva burocratizzazione del processo e di questioni che invece meritano un approccio realistico, coerente con la guerra in corso del nostro continente. Le conclusioni stabiliscono che i progressi dei tre Paesi andranno analizzati annualmente dalla Commissione nel contesto del pacchetto allargamento già a partire dal 2023. Si ricorda, infine, che tali progressi dipenderanno dai rispettivi meriti nel soddisfare i criteri di Copenaghen, tenuta presente anche la cosiddetta capacità di assorbimento dell'Unione Europea. È ugualmente significativa la consapevolezza di non far mancare analoghi segnali di attenzione verso i Balcani occidentali. Dal lungo tempo Paesi candidati o potenziali candidati impegnati attivamente nel percorso di avvicinamento all'Unione. Anche per questo motivo la giornata dei lavori del 23 giugno del Consiglio si è aperta con una conferenza tra Unione Europea e Balcani occidentali, i cui risultati sono stati purtroppo in chiaro scuro. La pressoché contemporanea crisi di governo in Bulgaria non ha purtroppo consentito in registrare progressi formali nel percorso di adesione in Macedonia, nel Nord e Albania in tempo utile per il 23 e 24 giugno. Nei giorni successivi al Consiglio si sono registrati importanti sviluppi, quali la formale accettazione da parte del Parlamento bulgaro della proposta presentata alla Presidenza francese di turno per superare il cosiddetto veto bulgaro sull'apertura nei negoziati con scopie. Si tratta di un compromesso che è stato accettato dai governi come l'unica strada per superare questa impasse che oramai dura da troppo tempo. Tale proposta è attualmente al vaglio del Parlamento e delle autorità Nord Macedoni e dovremo avere sviluppi questa settimana in un contesto di discussione non facile. L'Italia ha fortemente sostenuto una svolta positiva per Tirana e per Scopia, per Albania e Nord Macedonia. Il 5 luglio scorso il Presidente Michel nella sua visita a Scopia ha dato un segnale della volontà di registrare avanzamenti nel percorso europeo della Macedonia del Nord insieme all'Albania. In linea con le conclusioni del Consiglio europeo, bisogna dare ora seguito alle decisioni già prese nel marzo 2020 di avviare formalmente i negoziati con i due Paesi. Anche sulla possibile concessione dello status di candidato alla Bosnia-Herzegovina non vi sono stati sviluppi positivi perché non si è registrata l'unanimità tra gli Stati membri. Tuttavia il Consiglio si è detto pronto a concedere alla Bosnia lo status di candidato, invitando la Commissione a riferire in merito all'attuazione delle 14 priorità chiave indicate nel suo parere del 2019, con particolare attenzione a quella che costituiscono un insieme sostanziale di riforme. Ciò consinterà ai leader di tornare a decidere sulla questione. È stata inoltre ribadita la necessità di progressi tangibili nel quadro del dialogo Belgrado-Pristina. Da sottolineare, come i capi di Stato e di Governo hanno chiesto un'accelerazione nel processo di adesione dei Balcani occidentali. Più in generale, come chiesto dal Presidente del Consiglio Draghi, si è registrato un approccio alla tematica dell'allargamento da parte dei Stati membri molto meno burocratico, cioè senza perdere la fondamentale natura trasformativa del processo e nella consapevolezza che il percorso di avvicinamento all'Unione richiederà un impegno concreto da parte dei Paesi leader. È in questo contesto che si colloca anche il primo dibattito dei leader sulla cosiddetta Grande Europa, nato da una proposta del Presidente Macron su una comunità politica europea. Le conclusioni dei leader affermano che l'obiettivo è offrire una piattaforma di coordinamento politico per i Paesi europei di tutto il continente, in particolare tutti quelli con i quali l'Unione europea ha strette relazioni. L'obiettivo è quello di promuovere il dialogo politico e la cooperazione per affrontare questioni di interesse comune in modo da rafforzare la sicurezza, la stabilità e la prosperità del continente europeo. Dopo questo primo scambio di opinioni il Consiglio europeo si è impegnato ad approfondire ulteriormente la questione. I capi di Stato e di Governo hanno discusso degli ultimi sviluppi della guerra di aggressione russa contro l'Ucraina. Per confermare l'impegno dell'Unione europea a continuare a sostenere la pace, al cessato il fuoco e a supportare Kiev dal punto di vista politico, finanziario e militare negli sforzi internazionali finalizzati a evitare i rischi di una crisi alimentare globale. La guerra in Ucraina sta affrontando una fase molto complicata. L'Italia ha sostenuto il forte impegno del Consiglio europeo a fornire ulteriore sostegno al popolo ucraino. Le forze armate ucraine stanno subendo una crescente pressione russo, soprattutto del Donbass, con pesanti perdite e bombardamenti indiscriminati che aggravano le sofferenze e la popolazione civile. Tuttavia anche le forze russe stanno incontrando difficoltà importanti. Richiamiamo con forza il rispetto del diritto umanitario internazionale e invitiamo tutte le parti a garantire un accesso sicuro e senza ostacoli agli operatori umanitari, al fine di consentire agli aiuti necessari di raggiungere coloro che sono stati lasciati nelle condizioni più vulnerabili. L'Italia continuerà a sostenere il governo ucraino e il suo popolo. Abbiamo trasferito 110 milioni di euro come se sostegno al bilancio generale, 26 milioni di euro in risposta agli appelli umanitari internazionali. Nonché organizzato e coordinato la spedizione la consegna di circa 66 tonnellate di aiuti umanitari. Sono attualmente allo studio ulteriori iniziative sia in termini di sostegno finanziario che in termini di aiuti materiali. Intendiamo continuare sulla strada aperta dal Presidente Draghi e Kiev con un'azione infaticabile di sostegno all'Ucraina, alla sua resilienza e alla ricostruzione, così come alle sue aspirazioni europee. E siamo pronti a aumentare la pressione su Mosca, a condizione che vi sia l'impegno a garantire la sostenibilità delle misure restrittive, mitigandone l'impatto negativo. L'obiettivo dei leader del Consiglio finale è creare condizioni favorevoli per negoziati seri verso una soluzione pacifica e sostenibile, che non sia imposta da una parte all'altra ma pienamente concordata tra le parti, nel pieno rispetto e l'integrità territoriale della sovranità dell'Ucraina e sotto il pieno controllo di Kiev. Sulle sanzioni la formulazione delle conclusioni del Consiglio valorizza le decisioni già venute con l'adozione del sesto pacchetto di sanzioni dell'Unione europea e si concentra sulla loro attuazione per evitarne l'aggiramento. Vengono inoltre invitati tutti i Paesi terzi a allinearsi alle sanzioni dell'Unione, in particolare i Paesi candidati. In relazione alla crisi della sicurezza alimentare globale, gli sforzi italiani sono stati riconosciuti con il Consiglio europeo, espresso pieno sostegno alla determinazione delle Nazioni Unite e del G7 per aiutare le catene di approvvigionamento, soprattutto dei Paesi in via di sviluppo, per consentire e per assistere l'Ucraina nell'esportazione dei cereali e le operazioni di trasporto marittime. Sono stati confermati l'impegno di assistenza umanitaria e macrofinanziaria straordinaria, con importi fino a 9 miliardi di euro. Il Consiglio europeo ha inoltre adottato conclusioni sulle questioni economiche, con la chiusura del semestre europeo e l'approvazione in linea generale delle raccomandazioni integrate e specifiche per Paese e il via libera all'adozione dell'euro da parte della Croazia dal 1 gennaio 2023, a quasi dieci anni dall'ingresso dell'Unione europea. Il vertice euro del 24 giugno è stato anche l'occasione per fare il punto sulla situazione economica. Il dibattito si è poi focalizzato in particolare sulla risposta all'inflazione sui prezzi e l'energia. Grazie alle proposte anche del Governo italiano, il Consiglio europeo ha confermato che si lavorerà sull'introduzione di tetti temporanei ai prezzi e l'energia, su un coordinamento rafforzato tra Stati membri in tema di energia. Sul tetto ai prezzi e l'energia anche il comunicato finale del 28 giugno dei leader del G7 riuniti a Elmau sotto la Presidenza tedesca ha confermato l'opportunità di lavorare sull'introduzione di tetti temporanei ai prezzi e l'energia. La Presidente von der Leyen ieri a Praga ha fatto due annunci importanti. La Commissione presenterà tra due settimane, proprio su un mandato del Consiglio europeo, un piano di emergenza, basato su piani nazionali in caso di rinterruzione del gas russo. Inoltre verrà presentata una proposta sulla revisione degli obblighi del patto di stabilità e crescita dopo l'estate, previa comunicazione che ha sospeso gli obblighi del patto di stabilità e crescita anche per il 2023. Con riguardo ai seguiti della conferenza sul futuro dell'Europa, conclusasi il 9 maggio, le conclusioni confermano l'importanza di aver avviato un dialogo con i cittadini per formulare proposte di riforma, richiamando l'istituzione europea al dovere di garantire un seguito efficace alla relazione conformemente ai trattati. Le conclusioni non decidono un'immediata apertura di un processo di riforma ai trattati, come chiesto al Parlamento europeo, sollecitato anche da una mozione del Parlamento italiano e sostenuto dallo stesso Governo italiano, ma non chiudono a nessuna ipotesi e fanno prevedere un processo graduale. Infine, il Consiglio europeo ha adottato conclusione anche sulla Bielorussia e sul Mediterraneo orientale. Stante questi esiti e le posizioni negoziali di cui ha dato pubblicamente conto anche il Presidente del Consiglio alla fine del Consiglio europeo, ritengo soddisfatto il mandato conferito al Parlamento alla vigilia della riunione con le risoluzioni approvate in Senato e alla Camera. Sono a vostra disposizione per domande e per ulteriori precisazioni. Grazie. Bene, grazie al Sottosegretario. Allora cominciamo a chiesto la parola alla Senatrice Garavini. Grazie Presidente, grazie Sottosegretario Amendola per l'esaustiva relazione. Credo che vada rimarcato l'importante ruolo svolto dal Governo italiano e dal Presidente Draghi in merito agli interventi sostenuti non soltanto in quest'ultimo Consiglio europeo ma negli ultimi mesi rispetto alla necessità che l'Europa si doti di un tetto al prezzo del gas proprio per cercare di fare fronte alle conseguenze gravi determinate anche dal conflitto in Ucraina rispetto appunto all'impennata dei costi dell'energia. Non si è riusciti a pervenire a questa definizione a livello comunitario e lo stesso Presidente Draghi nella sua conferenza stampa ha avuto modo di rimarcare come il rischio che ci sia uno slittamento rischi di arrivare non più in tempo utile per fare fronte appunto al fenomeno dell'impennata dei prezzi. Ci può gentilmente dare ulteriori elementi rispetto a queste opposizioni che evidentemente sono emerse all'interno del Consiglio europeo? Quali sono stati gli elementi che sono stati posti come contrarietà rispetto al fatto che si pervenga ad un tetto a livello comunitario? Inoltre rispetto al fatto che anche in tema di conferenza sul futuro dell'Europa non si sia pervenuti alla definizione unitaria della previsione di una convenzione che quindi consenta di dare seguito alle proposte emerse all'interno della conferenza stessa. Lì reputa che sia derivato, io perlomeno lo voglio vedere in termini positivi, in termini costruttivi, cioè il fatto che ci fossero talmente tanti aspetti emergenziali da trattare all'interno del Consiglio europeo stesso che diciamo questo aspetto ha forse subito un po' il fatto di non essere una delle priorità in questa fase storica. Condivide questa lettura, ritiene che al prossimo Consiglio europeo si possa invece procedere celermente alla definizione del tutto oppure anche lì sono emerse delle contrarietà che magari sono sfuggite ad un osservatore non presente come la sottoscritta. Grazie Presidente. Grazie Presidente, grazie Sottosegretario Amendola per la relazione. Io vorrei tornare sul tema della conferenza sul futuro dell'Europa. Un processo che ha avuto dei tratti sicuramente positivi e altri invece da perfezionare che devono essere rivisti e bisogna dare anche il là rispetto a quello che sono state una serie di intendimenti. Ecco, la mia domanda è quella di cercare di fare un focus su quello che è il processo che verrà in una fase successiva, quindi qual è la posizione del governo italiano rispetto al tema della convenzione piuttosto che della conferenza intergovernativa e anche gli altri governi su che tipo di impostazioni vogliono posizionarsi e soprattutto, visto che l'intendimento della conferenza sul futuro dell'Europa è quello di coinvolgere di più e meglio i cittadini e quindi anche i territori, gli enti locali come verranno coinvolti? Cioè dobbiamo anche porci la riflessione internamente che, se è vero, il governo sta cercando di portare avanti un processo di autonomia che viene chiesto da parecchie regioni italiane, dalla Lombardia al Veneto piuttosto che l'Emilia Romagna e altri. È vero anche che in un processo di riforma dei trattati dell'articolo 48 che ci consente appunto di poter revisionare i trattati europei in futuro, dobbiamo anche chiederci come posizioneremo il ruolo degli enti locali nell'Europa del domani. Grazie Presidente. Ringrazio il Sottosegretario Amendola per la relazione. Noi siamo, come Partito Democratico, molto soddisfatti di una gran parte dei risultati ottenuti in questo Consiglio europeo e che ci tenevamo ovviamente a ringraziare e a continuare a sostenere il lavoro del governo. L'Italia obiettivamente ha assunto un ruolo da protagonista in questa situazione di difficoltà e di conflittualità a livello internazionale. Il risultato del riconoscimento dello Stato di candidato all'Ucraina e alla Repubblica di Poldova è un risultato davvero storico, come è stato detto, ci teniamo a rimarcarlo anche in questa sede. Ci sono ovviamente alcuni, c'è del lavoro ancora da fare e noi chiederemmo che condizioni ci sono per continuare a proseguire su alcune proposte. Una è quella della Comunità Politica Europea. Si è discusso in dettaglio, c'è la possibilità, è stato rinviato a un nuovo meeting, a un nuovo summit, anche la valutazione tecnica di questa opzione da percorrere, non per rallentare il processo di adesione, ma per iniziare a creare davvero una comunità politica di dibattito, di dialogo e di confronto tra gli stati candidati all'adesione, per semmai accelerare o creare le condizioni migliori per poter andare avanti in questo percorso. E quali sono invece sul tema economico se ci sono misure specifiche su cui si sta ragionando anche per sostenere gli stati rispetto all'esigenza di adottare misure, probabilmente dall'autunno, di ulteriore contenimento del costo dell'energia per le famiglie, se si sta ragionando su programmi simili a quello SURE adottato per il sostegno alla Cassa Integrazione Europea durante il Covid o altri programmi del genere, accanto a quelli che abbiamo già commentato il Renew Repower EU, legato appunto al sostegno agli stati per le politiche di efficientamento energetico. Quindi se ci sono dei programmi concreti su cui si sta discutendo per sostenere gli stati, affinché possano aiutare le famiglie, soprattutto dall'autunno, a tenere sotto controllo il prezzo di energia e gas, oltre al ragionamento che è stato richiamato prima dalla collega di un'eventuale ipotesi di cap temporaneo al prezzo del gas di cui si sta discutendo a livello europeo ma anche internazionale. Grazie. Onorevole Quartapelle da remoto. Prego, deve accendere la telecamera. Grazie mille Presidente, si stava accendendo. Una domanda sulla questione del grano, cioè se si è parlato più nello specifico di come affrontare un possibile fallimento della mediazione turca e di un possibile fallimento di un'iniziativa a livello del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Cioè se si è ragionato sulla possibilità di una missione navale, una iniziativa che riguarda il Mar Nero e la presenza di navi europee. Grazie. Grazie. Grazie l'onorevole Berti da remoto per accendere la telecamera. Berti mi sente? Buongiorno, mi sentite? Sì, prego. Eccoci, salve. Allora io volevo chiedere, ringrazio il Ministro per il lavoro, l'estito del Consiglio europeo è sicuramente molto importante su tanti punti di vista. Io volevo chiedere una cosa specifica per evitare, per essere ambiziosi e essere all'altezza delle sfide del futuro che sono state descritte. Bisogna cercare di non ricadere nei soliti errori del passato. E quindi volevo chiedere se sta avanzando in qualche modo il tema sulla riforma del fatto di stabilità e crescita e su tutto quello che è anche il progetto presentato all'Italia e dalla Francia su una condivisione del debito comune e la creazione di un'agenzia del debito europeo. Perché è chiaro che sono temi molto tecnici, però da qui veramente si può stabilizzare il futuro macro finanziario, macro prudenziale dell'Unione Europea. Ci sono tantissime priorità come l'inflazione, il costo di energia, però anche il tema del controllo dei conti e della condivisione dei rischi è sempre prioritario per il nostro Paese e quindi volevo chiedere se in qualche modo il dibattito sta andando avanti. Grazie. Volevole Rossini, prego. Sì, grazie. Sottosegretario, volevo porre una domanda rispetto al progetto della grande Europa, come lei diceva. È stato molto importante il riconoscimento delle richieste di adesione e anche gli incontri sui Balcani occidentali. Comprendiamo che il processo di adesione ha i suoi tempi, doverosamente i suoi tempi, perché in sesso è un processo di riforme anche. E quindi la gradualità vede in prospettiva un lungo lavoro. Nello stesso tempo c'è una tempestività degli eventi che ci porta a rafforzare, a dover rafforzare le nostre collaborazioni e anche un coordinamento con i Paesi vicini. In particolare su due aree strategiche e critiche oggi. Quella di un coordinamento sul piano dell'intelligence e di mettere a punto degli strumenti comuni contro minacce ibride e l'altra della transizione energetica. Questi due settori ci vedono compatti, comunque uniti con i Paesi di nostro vicinato. Volevo chiederle se il progetto della grande Europa si sta orientando su questi due pilastri come primo lavoro da fare insieme. La seconda domanda era rispetto ai rischi e come paventare i rischi di una recessione, che ieri anche von der Leyen diceva, parlando della Germania, dei rischi di un eventuale rallentamento dell'economia tedesca. In questo merito mi chiedevo se i Paesi dell'Eurogruppo stanno mettendo a punto un lavoro comune vista l'interdipendenza forte delle nostre economie. Ultima domanda, il dialogo con i cittadini, come lei ha detto. Allora, noi stiamo puntando sul gas naturale. Ieri sempre von der Leyen diceva che le esportazioni globali del gas naturale verso l'Europa sono aumentate del 75% rispetto al 2021. Ora, noi abbiamo anche come parlamentari, siamo a cerniera con i nostri cittadini. È chiaro che il gas è sempre un materiale fossile, quindi dobbiamo in un certo senso condurre anche il Paese, i nostri cittadini, soprattutto con una grande sensibilità ambientale, visto che da due anni noi proponiamo, parliamo e chiediamo sacrifici per una strada diversa proprio di comportamenti. Quindi abbiamo bisogno di spiegare e avviare un dialogo forse più stretto e chiaro sui tempi della transizione, della gradualità di dismissione dei materiali fossili. Grazie. Grazie Presidente. Io ringrazio il Sottosegretario Amendola per la relazione in cui ha toccato più volte il tema dell'allargamento dell'Unione Europea e dei Balcani Occidentali. L'impressione che ho avuto è che nel momento in cui non ci sono passi avanti in quell'area il fatto che non ci siano passi avanti viene letto come un passo indietro e questo se è da un lato politicamente più comprensibile per la Bosnia-Herzegovina perché le dinamiche lì sono estremamente complesse. Dall'altro io penso che per quei Paesi che sono già candidati o a maggior ragione per quei Paesi che sono candidati e hanno già avviato pure i negoziati io penso che serve un'azione politica più forte quantomeno dal nostro Paese. Altrimenti ogni tre mesi al Consiglio Europeo si tocca l'argomento e poi terminato il Consiglio Europeo l'argomento viene messo da parte. Quindi io quello che chiedo è al Governo se prevedete di intensificare una serie di azioni politiche in sede europea quantomeno verso Serbia e Montenegro per dare un segnale a tutta l'area balcanica che l'attenzione non viene posta soltanto a ridosso dei Consigli Europei ma è qualcosa che viene mantenuta nel tempo e il Consiglio Europeo dovrebbe essere quel luogo e quel momento dove si va a concretizzare quel processo di allargamento di cui probabilmente non tutti sono convinti in sede europea ma verso chi non è convinto noi dovremmo ricordare che l'alternativa sarebbe ben peggiore rispetto all'ingresso di Paesi che certo andrebbero ad aumentare il numero di Paesi aderenti andando anche ad aggravare quello che è il processo decisionale all'interno dell'Unione ma come dicevo l'alternativa di continuare a mantenere questi Paesi al di fronte dell'Unione Europea è decisamente peggiore. Grazie. Ci sono altre? Non voglio fare soltanto due domande al sottosegretario che ringrazio. Il primo riguarda il nodo della Macedonia perché la proposta francese ha già dato luogo e questo è un punto delicato. È una doppia interpretazione perché la proposta francese recita che in presenza di un impegno da parte macedone a modificare la Costituzione si possono convocare la conferenza intergovernativa. Da parte bulgaro si interpreta che in presenza della riforma, della modifica della Costituzione si possono aprire, il che cambia radicalmente i tempi. La proposta francese, l'ho letta, è letteralmente molto chiara. Non dice in presenza di un impegno, non dice in presenza di una modifica. Però dobbiamo sapere che c'è questo doppio, quindi c'è ancora molto da lavorare su questo punto. La seconda questione, io provo abbastanza curioso che si sia rinviato il riconoscimento dello status di candidato alla Bosnia perché c'è stata una riunione a Bruxelles un mese fa credo, anche di meno, di tutte le parti bosniache con Borrell che ha come dire sottoscritto un'intesa. Poi sappiamo bene che non è detto che un'intesa sottoscritta venga applicata, però è un passaggio politico importante che avrebbe dovuto consigliare un atto di incoraggiamento come il riconoscimento dello status di candidato. L'ho rinviato, non mi è sembrata una grande cosa. Terza questione, nel comunicato del Consiglio si usa un'espressione che è anche l'espressione che abbiamo usato nella nostra risoluzione, accelerare i negoziati, bene, bisogna che questa accelerazione corrisponda però degli atti, dei fatti, perché una volta che dici che bisogna accelerare poi bisogna farlo. Segnalo, ma non ho bisogno di dirlo a voi né tantomeno al sottosegretario, che da Salonico sono passati 19 anni, da Dayton sono passati 26 anni, siamo a un tempo biblico, quindi o si stringe. E mi preoccupa una cosa, sia Macron, sia Draghi in modo più netto e altri hanno detto, anche Scholz, che la creazione di una comunità politica europea non è alternativa a un processo di integrazione. Sappiamo tutti che però ci sono alcune capitali che invece la pensano così. Ci sono alcune capitali che pensano che la comunità politica europea è un secondo cerchio sostanzialmente dove si collocano paesi che a questo... e si usa l'argomento che non possiamo includere questi paesi, è già complicato funzionare a 27, figurati a 33, bisogna prima far l'approfondimento, ora io ho già una certa età, ricordo che la prima volta che è stato posto all'approfondimento è 38 anni fa e sono passati 38 anni senza approfondire. E in questi 38 anni abbiamo avuto due referendum bocciati in Olanda e in Francia. L'impossibilità di arrivare a una politica comune sulle migrazioni per l'opposizione di paesi che stanno nell'Unione Europea da decenni, che se non era per Italia, Francia e Germania, Next Generation EU non si faceva. Allora, i problemi del mancato approfondimento sono dentro l'Unione Europea che c'è, non è che sono i Balcani che ci pongono un problema. O si affronta di petto questa questione, quindi qui la conferenza europea ha dato mandato di convocare una... ha proposto di convocare una convenzione sulla riforma dei trattati, il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione molto netta e impegnativa su questo, vediamo che cosa succede, sapendo che 13 paesi, quelli lì che dicono che bisogna farlo approfondimento, sono gli stessi 13 paesi che dicono che non si tocca nulla dei trattati e quindi ho l'impressione che non approfondiremo se non tocchiamo nulla. E dopo ci sarà detto che non avendo approfondito non si può allargare, cioè è una logica che io penso vada respinta e francamente rovesciata. Ultimissima questione, il Sottosegretario ha richiamato l'impegno ribadito in tutte le sedi a sostenere l'Ucraina, non solo oggi sul fronte della guerra ma anche nella ricostruzione. Ora, allo stato attuale, se io non ricordo male, l'Unione europea e la comunità internazionale fornisce circa 5 miliardi al mese a l'Ucraina, più o meno. un calcolo presuntivo, naturalmente pigliamolo come presuntivo, per la ricostruzione, dice che la ricostruzione richiederà non meno di 200 miliardi, valutazione del governo tedesco. Se non si fa luogo a un qualche strumento finanziario straordinario, io ho l'impressione che tutte queste cose qui resteranno sulla carta. Quindi questa roba qui batte necessariamente immediatamente sulla discussione sui temi di bilancio. Con l'inflazione che sale, con i problemi energetici che abbiamo, con tutto quello che c'è, con gli strumenti finanziari che attualmente è disponibile ai bilanci degli Stati, ho l'impressione che noi non finanzieremo la ricostruzione. Se la vogliamo finanziare e affrontare i problemi, poi De Luca poneva un problema anche di altra natura, cioè come si sostengono ulteriori costi per imprese, famiglie, eccetera, per la crisi energetica. Quindi io penso che il tema di uno strumento finanziario straordinario, analogo, poi ogni cosa ha una sua specificità, analogo a quello che abbiamo adottato con Generation EU, penso che sia ineludibile. Vorrei sapere qual è la valutazione del sottosegretario, non solo nel merito, ma anche sul tipo di dibattito che c'è attorno a questa questione. Grazie. Grazie Presidente, risponderò a tutti quei siti che mi sono stati posti, all'onorevole Garavini, alla senatrice Garavini, che mi permette anche di rispondere a altri colleghi che hanno posto il tema del gas. Allora, andiamo per ordine. Noi il tema dell'emergenza legato agli effetti economici dell'invasione illegale russa in Ucraina, l'abbiamo posto tutti insieme, consapevoli del processo, già dal Consiglio straordinario di Versailles. E' evidente che essendo la Russia monofornitore per larga parte delle forniture gas e petrolio, questo ha posto già i temi nei primi pacchetti sanzioni, anche perché ovviamente gli introiti della vendita a gas e petrolio fanno sì che l'economia russa sotto sanzioni, quindi sotto i colpi delle restrizioni e invece abbia cassa per proseguire questa sciagurata invasione militare. Quindi questo tema noi l'abbiamo composto dall'inizio e abbiamo indicato non solo i dati abbastanza isterici del mercato gas, soprattutto sulla borsa TTF di Amsterdam, che ha dei sobbalzi da un prezzo medio che conoscevamo già prima della guerra a dei prezzi che sono al di fuori del concepibile oggi. Ovviamente questo lavoro ha portato alla comunicazione Repower EU. Repower EU è un meccanismo complesso in cui si indicano le scalette delle azioni. Noi abbiamo sostenuto sempre, e penso che questa idea che sta adesso anche nel G7 di Elmau è stata portata avanti, abbiamo sostenuto che un mercato come il nostro, 27 attori economici, sulla determinazione delle condizioni di mercato, se si muovono in maniera unita, io credo che possono avere dei risultati non solo per calmirare i prezzi come avviene in un mercato che è libero come quello del petrolio, ma soprattutto nel mercato del gas, che è un mercato in cui il monofornitore ha anche vie obbligate di distribuzione delle fonti fossili, a maggior ragione i 27 uniti possono indicare in maniera emergenziale quella che è la nostra attitudine. A questo si lega anche una riforma del mercato energetico europeo, perché ci sono delle contraddizioni evidenti, il famoso decoupling, cioè dividere il prezzo da elettricità prodotta da rinnovabili da quello del gas mi sembra una necessità ovvia, soprattutto per chi come noi vuole realizzare il Green Deal, quindi dare più forza alla produzione elettrica da rinnovabili. Questo è il quadro. La prima sperimentazione che si è realizzata, negoziata, è quella della penisola iberica che ha avuto la possibilità di sperimentare un decoupling. Ora qui tengo a precisare che quella iberica è un'eccezione, in quanto la penisola iberica non è connessa da nessuna struttura di gasdotti o oleodotti, quindi gli si è data un'eccezione proprio perché avevano un'emergenza in più. La stesso tema che si è posto per esempio sul pacchetto, sesto pacchetto sanzioni, per quanto riguarda gli oleodotti, che in una parte dell'Europa dell'est sono unici, è l'unica fonte di approvvigionamento. Repower EU vuole rispondere a questi problemi anche con le connessioni. Si discute anche di una connessione per esempio tra penisola iberica e Italia, anche perché penisola iberica ha quella mancanza di gasdotti, però ha sette stazioni di LNG nella penisola, che sono un patrimonio per tutta l'Europa, non solo per la penisola iberica, visto le nuove rotte energetiche che si stanno creando. Quindi è lo stesso per gli oleodotti, se la rotta, diciamo, monofornitore verso la Russia ovviamente è bloccata, bisogna diversificare, quindi costruire rotte dall'Italia o dalla Croazia verso l'Europa centrale proprio per approvvigionamento di oil. Quindi il tema principale del Repower è innanzitutto riscrivere una connessione infrastrutturale, che per l'Italia significa anche un vantaggio, vantaggio perché la politica energetica che si diversifica dalla Russia guarderà molto più a sud, cioè guarderà il Mediterraneo, guarderà le rotte dell'LNG, guarderà le rotte anche nuove che si apriranno quando per esempio la produzione di idrogeno verde sarà necessario e sarà sostenuto dal punto di vista tecnologico. Quindi Repower EU indica un meccanismo nuovo. Quello che noi poniamo sia a livello emergenziale sia a livello stabile sono delle riforme, delle regole del mercato energetico, che non sono più all'altezza di una competizione extra-way, con attori extra-way. Magari era un mercato regolato per una competizione intra-27, ma qui stiamo parlando dell'Europa e come ci dimostra l'emergenza che deve diversificare, difendere il suo potere d'acquisto e cercare anche di lavorare a livello di competitività. Quindi Repower EU è questa la strada che si è aperta. Sulla Price Cap io credo che sia una manovra sia politicamente anche e soprattutto per mitigare gli effetti dell'inflazione, che in larga parte, a differenza dei Stati Uniti, è basata sui costi energetici, quindi è un'inflazione derivata dall'aumento dei prezzi dell'energia, sia una mossa saggia. Come sempre le discussioni procedono, alcuni Paesi, soprattutto a livello di gabinetto, devono fare la propria analisi di mix energetico. Io penso che questa, con il mandato pieno che abbiamo dato alla Commissione, con la Presidente von der Leyen, che addirittura prima di settembre vuole già anticipare delle misure in corso di luglio, credo che sia stata una scelta. non lo dico solo per bandiera, ma per interesse geopolitico e interesse economico dell'Europa saggia e su questo credo che arriveremo al punto. Mi faccio anche utilizzare questa mia risposta per complimentarmi con la presidenza di turno francese. Non è stata una presidenza facile, ovviamente, rimesso perché c'avevano anche le elezioni presidenziali, quindi è stato anche un turno complicato. Ma è una presidenza che è riuscita da Versailles in Pol, cioè da febbraio, a tenere unita l'Europa, in una condizione molto complessa ovviamente di reazione all'invasione ucraina, e anche di realizzare dei percorsi, l'ultimo e questo è il Fit for 55 del Green Deal europeo, ci tornerò su questo, ma anche gli accordi sulle direttive del digitale, e appunto istradare una discussione sull'energia che sia emergenziale ma anche di lunga durata. Per quanto riguarda il tema della convenzione, articolo 48, rispondendo alla senatrice Garavini, all'onorevole Bianchi e altri che l'hanno posto. Ora, la conferenza sul futuro dell'Europa ha dato 49 indicazioni. La Commissione si è impegnata alcune di queste indicazioni a assumerle già a trattati vigenti. Lo farà nel discorso sullo Stato dell'Unione la Presidente, il Consiglio Europeo, ha dato mandato. Il Parlamento ha chiesto invece la convocazione di una convenzione, quindi di un processo molto più impegnativo, organizzato, poi con gli esiti che sappiamo, quelli del 2005, sicuramente non all'altezza delle emergenze che abbiamo. Noi abbiamo fatto questo tipo di lavoro, noi altri sei paesi, poi si è giunta la Francia quando è finita la Presidenza di turno, abbiamo sollecitato la riforma ai trattati. Sollecitato ovviamente il rispetto delle differenti sensibilità politiche, perché poi anche nel Parlamento europeo ci sono differenti idee su come bisogna riformare i trattati. Però è evidente che su alcune grandi questioni, come il voto a maggioranza o un processo decisionale molto contorto, alcune modifiche sono urgenti già da adesso, per non dire tutta la parte che riguarda la sanità o altri temi che non sono proprio presenti nei trattati. L'Italia si è schierata col Presidente del Consiglio nel discorso del Parlamento di Strasburgo, credo sia stato il primo Presidente del Consiglio a dirlo, che noi siamo anche sulla scorta di una risoluzione che ha votato il Parlamento italiano, il primo Parlamento italiano a votare una risoluzione sugli esiti della conferenza futura dell'Europa, il Governo italiano è favorevole alla riforma dei trattati. È un obiettivo, recito a memoria, che va indirizzato con ambizione e coraggio e ovviamente siamo disponibili nel caso ci sia una convergenza sulla Convenzione ex articolo 48 oppure di utilizzare strumenti come quelli del 2016 in una conferenza interistituzionale che permetta di andare su alcuni elementi già in maniera prioritaria. Questa posizione, io lo dico a scanso di equivoci, non è ancora una posizione maggioritaria tra i Paesi membri. Siamo un po' sul filo, cioè se si dovesse votare nel Consiglio Affari Generale su questo tema, non credo ci sia una maggioranza larga e quindi va gestito con attenzione le assunzioni del Parlamento, le richieste della Commissione o l'operato della Commissione e un discorso tra i governi che debba portarci delle soluzioni. Anche l'eliminazione del veto su alcune materie non è un termine molto condiviso tra molti Paesi, vorrei dirlo purtroppo l'Italia su questo si trova molto con i Paesi fondatori, con i sei Paesi fondatori ma ci sono altri Paesi che hanno molte difficoltà e non parlo solo Paesi che hanno una linea politica conservatrice ma anche Paesi progressisti, quindi questo è un discorso trasversale a tutte le forze politiche, lo dico proprio a scanso di equivoci, anzi se devo essere onesto sto avendo più problemi dalla parte politica mia del Nord Europa su questi temi. Quindi è un discorso che noi affronteremo adesso in un CAG informale a Praga la settimana prossima e da qui a settembre insieme alla Commissione che già farà della strada dobbiamo arrivare a una soluzione, ma cambiare parte dei trattati oggi mi sembra proprio la cosa più necessaria. Torno, lo leggo alla riforma del patto di stabilità e crescita, ha fatto molto bene il Commissario Gentiloni ovviamente insieme alla Commissione a sospendere gli obblighi del patto di stabilità e crescita per il 23, da settembre si aprirà il tema della riforma, ma anche lì ci sono delle regole che nessuno rispetta, soprattutto quella della riduzione del debito che proprio perché nessuno le rispetta da vent'anni a questa parte non si capisce perché le dobbiamo tenere lì come un simulacro che nessuno dà effettività. Quindi su questo il Governo italiano è schierato, su un mandato del Parlamento, in tutte le vie possibili per modificare i trattati o parte dei trattati, selezionando quelle che sono le priorità. Ma su questo il Parlamento, insieme agli enti locali e insieme a tutta la conferenza e le regioni, deve avere un ruolo fondamentale. Per quanto riguarda le domande fatte dall'onorevole De Luca e Schur, ora qui io vorrei rispondere in maniera, mi spiace, un po' facendo due conti in tasca all'Unione Europea. Noi con Repower EU mobiliteremo più di 200 miliardi di risorse che sono rinvenienze dei fondi non utilizzati dall'RRF, più c'è un allargamento delle quote TS, quindi utilizziamo delle risorse esistenti per dar vita a nuovi strumenti. Sono contento anche delle dichiarazioni della Presidente von der Leyen di ieri su Schur. Schur è un meccanismo tra l'altro che l'abbiamo fatto a trattati vigenti usando l'articolo 122, quindi non c'è bisogno. Su tutti gli strumenti di capacità fiscale europea, noi li lavoriamo a 27 sulla base del QFP, del bilancio europeo 21-27, che viene utilizzato nei margini per andare sui mercati e mettere nuovi titoli di debito che finanziano in capacità. Io credo che al momento, parlando col Commissario il bilancio AN, queste possibilità non ci sono più se gli Stati nazionali non danno garanzie. Cioè noi parliamo di un bilancio europeo che è l'1% del prodotto globale dell'Unione. Se non aumentiamo quella quota è difficile andare a emettere obbligazioni, scusate, che poi alimentano strumenti fiscali comuni. Quindi questo è un tema che va analizzato, perché se gli Stati non danno le garanzie la Commissione può scrivere tutte le proposte che vuole, ma non c'è benzina per fare queste. Per questo RepowerEU usa strumenti già esistenti, cioè risorse che sono rinvenienze di altri capitoli, non sono soldi nuovi. Io sono d'accordo che bisogna strutturare una capacità fiscale, Next Generation 2 si dice, o anche strumenti come SURE che sono stati utilizzati con target appropriati. Ma per fare quelle cose ci vogliono le garanzie degli Stati, non c'è nessun cattivone a Bruxelles che non li vuole fare. Se gli Stati 27 non gli danno garanzie non si può costruire la capacità fiscale su cui lavorare. Quindi tema giusto, il Governo insiste, il Governo è consapevole che dobbiamo aumentare le capacità fiscali comuni, ma su questo ovvio serve il consenso di tutti i Paesi. Per quanto riguarda la domanda sul grano dell'On. Quartapelle, il tema ha delle specifiche. Come sapete l'entrata nel Mar Nero è regolata dalla Convenzione di Montreux, quindi tutti gli apparati militari possono entrare solo su autorizzazioni. Per sminare i porti, per fare interventi di corridoio, la mediazione turca è importante proprio perché sono dentro la Convenzione, essendo coloro che la gestiscono. Per navi straniere si dovrebbe attivare un meccanismo. Per questo noi chiediamo l'intervento delle Nazioni Unite, perché costruirebbe quel quadro giuridico di intervento per realizzare questi obiettivi. Alcune vie emergenziali sono già attivate, quelle verso la Lituania e verso la Romania, che permettono un trasporto di merci su strada, però ovviamente, su ferrovia, hanno tempi più lunghi. Riforma, il patto di stabilità e crescita, chiedeva l'On. Berti. Il dibattito si aprirà a settembre. Il Governo italiano, con la lettera su Financial Times tra il Presidente Draghi e il Presidente Macron, hanno già presentato quella che è la nostra ambizione, cioè di cambiare regole di un patto che ha dei termini legati all'economia degli anni Ottanta, sia per quanto riguarda, non tanto per quanto riguarda il deficit, ma per quanto riguarda il modello di rientro sui debiti. Al netto anche che abbiamo avuto una pandemia che ha alzato il livello medio dei debiti in Europa per tutti i Paesi e che deve costruire soprattutto un'ambizione, perché nello stesso documento in cui la Commissione indica la necessità di una riforma, si indicano anche i capitoli di spesa che avremo per la transizione green da qui al 2030, escluso i fondi Next Generation, esclusi i fondi nazionali, il fabbisogno che indica la Commissione, non io o il Vicepresidente Bossi, è di 650 miliardi all'anno di investimenti pubblici e privati. Quindi per raggiungere questi target ci sarebbe la necessità, c'è la necessità di non avere un patto di stabilità e austerità, ma un patto di stabilità, crescita, soprattutto che sia in conformità con gli obiettivi che abbiamo, perché altrimenti il Fit for 55, che secondo me, e io credo che le Commissioni lo dovranno analizzare bene adesso che si chiuderanno anche i triloghi tra settembre e ottobre, è una rivoluzione dal punto di vista dei modelli di consumo, di produzione, di produzione energetica, di indirizzo industriale che necessiterà grandi doti di investimento su tutte le filiere che vengono interessate, non solo per la neutralità climatica che è un'ambizione e un obiettivo, non è più un dibattito ma un obiettivo, visto le tragedie che viviamo nell'età contemporanea, ma soprattutto perché questa nostra industria europea ha bisogno di ricostruirsi in maniera competitiva, non solo per gli obiettivi di neutralità, ma anche per una convenienza, la concorrenza su cui il prodotto europeo, come nel secolo scorso, anche in questo secolo, deve dettare la linea nel senso ecosostenibile. Quindi la riforma del patto di stabilità e crescita è necessaria, io credo che alcuni indirizzi sono importanti, per esempio il documento olandese spagnolo che indica una riformulazione della regola del ventesimo sul rientro del debito, si ha un'apertura importante, aspettiamo magari l'indicazione anche al governo tedesco che dovrebbero arrivare a breve perché questo ci consente di darci un quadro prima che del rientro negli obbligo del patto di stabilità e crescita per riformarlo e questa è l'intenzione europea. All'onorevole Rossini e anche a alcune questioni poste da altri onorevoli, incluso il presidente Fassino, la grande comunità politica europea. Questa è una proposta avanzata per la prima volta dal presidente Macron a Strasburgo, al margine della fine della conferenza sul futuro dell'Europa. Ora io credo innanzitutto che non bisogna sovrapporla con i processi di allargamento perché sarebbe un segnale molto negativo adesso che stiamo trattando e dobbiamo accelerare per Serbia e Montenegro, dobbiamo risolvere come diceva giustamente il presidente Fassino i temi relativi alla Bosnia con la fragilità, ma sarebbe una contraddizione. Io credo che l'ispirazione di questo primo dibattito poi continuerà e anzi il Parlamento e le commissioni parlamentari avranno un grande ruolo su una riflessione che è aperta, non c'è una traccia già formalizzata, è quello di comprendere come un continente come il nostro, che ha un grande mercato, una grande capacità, sia riformuli un po' l'ispirazione del Consiglio d'Europa, più che del Consiglio europeo. Cioè riformuli la grande capacità di una famiglia continentale ad avere legami su molti settori, dal commercio rispetto ai diritti umani all'inclusione geopolitica di grandi formati, a essere unita. Ora, se questa definizione di un'unità continentale che ha delle ambizioni anche per superare ferite come la Brexit o per guardare anche in dimensioni più larghe, si realizza verso una confederazione o si realizzasse solo su uno schema Consiglio d'Europa o si realizza solo in un circuito che poi magari ha delle difficoltà come abbiamo in passato, questo è tutto da definire. È evidente che non può andare in contraddizione con l'allargamento perché abbiamo affermato in questo Consiglio europeo che l'allargamento è un processo politico come l'abbiamo sempre inteso come Italia. Cioè dinanzi alla guerra Ucraina, Moldova e i Balcani occidentali devono essere parte di una famiglia. Ovvio che qui si riallaccia alla riforma dei trattati, una famiglia istituzionale che si allarga ha bisogno anche di meccanismi procedurali completamente differenti, ma non perché abbiamo paura di passare da 27 a 35, ma perché non funziona già adesso a 27 molti dei meccanismi decisionali, quindi non sarebbe una novità, è già un'emergenza. Quando abbiamo il veto su materie complesse o materie, molte volte ci blocchiamo oppure tutti i temi relativi al processo decisionale tra Commissione, Consiglio e Parlamento sono abbastanza fragili in questa situazione. E per questo sull'allargamento, allora io ribadisco la posizione italiana espressa sia dal Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione sia dal Governo di una forte sostegno all'allargamento. E dico all'On. Maggioni che l'abbiamo lavorato in tutti i modi, il Presidente Draghi ha ospitato qui il Presidente Bulgaro, il Presidente Nord Macedoni. Io personalmente sono andato in Bulgaria, anche il Ministro ha ricevuto la Ministra degli Esteri e i Bulgari. Io su questo tema del confronto Bulgaria-Nord Macedoni abbiamo lavorato diplomaticamente sotto ovviamente il lavoro anche della Presidenza francese per addivenire a una soluzione. Quando questa soluzione è avvenuta, è avvenuta cioè il 23-24 al Consiglio e il Governo è caduto. Cioè è caduto il Governo, la Commissione parlamentare, il Parlamento ha votato ma il Governo bulgaro è caduto, estremamente diviso. Quindi c'è voluta pazienza diplomatica per arrivare a una via d'uscita. Adesso bisognerà lavorare molto, soprattutto con Scopio, col Governo Nord Macedone per addivenire a una soluzione che porti ad aprire la conferenza intergovernativa anche per la Nord Macedonia, in quanto per esempio per l'Albania nella corsa ci siamo bloccati. Su questo io vorrei fare una specifica poco diplomatica. Io credo che è necessario raggiungere l'obiettivo, cioè quello dell'apertura dell'accordo status di candidato. Però questa tendenza che è passata negli ultimi mesi, anche in qualche esponente della Commissione europea, per cui i diritti delle minoranze devono essere costituzionalizzati in un Paese vicino, è un rischio. Perché se ogni Paese ragiona così, cioè noi abbiamo l'esperimento migliore riuscito che è quello dell'accordo che celebriamo quest'anno i 50 anni nell'Alto Adige, ma se dovessimo ragionare non nell'Europa unione delle diversità, ma unione delle diversità in cui ognuno deve rispettare i diritti delle minoranze di un altro Paese e costituzionalizzarli, io credo che sia un rischio, soprattutto dell'Est Europa, il Presidente Fassino conosce le minoranze di Paese per Paese, non ce la sbrighiamo più. Non è un tema europeo questo, è un tema bilaterale e quindi europeizzare un diritto singolo di ogni Paese per dettare è un rischio. Per questo noi con la Bulgaria abbiamo avuto molta pazienza diplomatica e continuiamo, la proposta francese è sicuramente una via ma molto complessa, però c'è un punto su cui io credo che la Commissione debba un attimo irrigidirsi e non andare appresso a tutte le rivendicazioni che girano per l'Europa, se no qui io credo che la storia europea sia piena di minoranze in tutti i Paesi e non la finiamo più, che è un tema di rispetto, figurarsi, ma non sia mai che venga meno questa unione delle differenze, però processi costituzionali in alcuni Paesi come avverrà anche in Nord Macedonia non sono semplici, non è che si cambia la Costituzione la mattina e la sera, premesso che era stata già cambiata sul nome dopo l'accordo con la Grecia, quindi questo è un fuorisacco mio, ma è un po' una tendenza della Commissione che io non condivido, lo dico esplicitamente, l'ho detto anche al Ministro, appunto anche firmare accordi come quelli della Bosnia e poi avere la fragilità di non spingere, dove lì le minoranze sono frutto di una tragedia storica credo che sia molto pericoloso, però l'Italia su questo garantisce l'impegno, garantisce accelerare i rapporti con i Paesi che stanno già negoziando devono continuare, per una finalità politica che la guerra ha manifestato, l'Unione Europea ha un'ambizione geopolitica e una necessità geopolitica. Per quanto riguarda le questioni dell'Onorevole Rossini sull'economia sono tutte legate al quadro che abbiamo, c'è stata un'analisi ovviamente sui passaggi da fare, sulla natura dell'inflazione, sulla natura e gli interventi della Banca Centrale Europea, intervenuta la Presidente Lagarde, su cui aspettiamo gli esiti adesso delle manovre che sono state predisposte, tagli dei tassi sono ovviamente necessari per bloccare la spirale inflattiva, vedremo per quanto riguarda altre manovre annunciate. Presidente Fassino poneva il tema dell'Ucraina e della ricostruzione, è assolutamente vero, la Commissione per ora ha solo indicato gli obiettivi di assistenza macrofinanziaria nell'immediato, contiamo di arrivare a 9 miliardi, un miliardo è già stato destinato, anche qui aspettiamo le garanzie degli stati sovrani perché pure quelli sono leve da mobilitare, per quanto riguarda la ricostruzione invece il tema è di là da da venire, i calcoli che si fanno nella comunicazione sono oltre il 500 miliardi, quindi è un impatto abbastanza alto che però adesso nessuno ha quantificato nelle misure, negli strumenti da realizzare. Questo è un po' il quadro, gli esiti quindi dal punto di vista politici e forti di unità sull'Ucraina e allargamento sono stati realizzati, sul mercato dell'energia aspettiamo gli esiti che la Commissione già da questo mese, da qui a settembre, deve formalizzare, quindi dopo un lungo lavoro. Le questioni invece di conferenza del futuro dell'Europa alla grande idea di una Europa politica, queste sono sul tavolo, su cui il Parlamento, io credo nel rapporto anche con gli altri Parlamenti, possono giocare un ruolo decisivo proprio per smuovere delle resistenze che si incontrano in alcuni Paesi. Grazie. Grazie al Sottosegretario per le risposte puntuali su tutte le questioni, quindi mi pare che possiamo ringraziarlo anche a nome del Presidente Battelli e dei Presidenti delle Commissioni del Senato e chiudere la nostra audizione. Grazie a tutti voi.